Siamo qui con il sindaco Emanuele Antonelli per commemorare oggi i deportati della Ercole Comerio. Ci dica com'è questa giornata? Sono contento che si fa lo stesso, lo facciamo chiaramente in condizioni molto limitate, la cerimonia non ci sarà più dopo il consueto appuntamento con un personaggio che avrebbe parlato, spiegato, fatto e ricordato soprattutto però l'abbiamo fatto lo stesso, sarà trasmesso in radio i nostri messaggi, sono contento che si possa fare lo stesso seppur in forma ridotta ma è necessario ricordare sempre quello che c'è stato e ricordare tutte queste persone che ci hanno permesso oggi di vivere in libertà. Cosa possiamo aspettarci ai commenti di questo pomeriggio? Ma niente, più che altro è sempre un ricordo di queste coraggiose persone che sono state deportate, che hanno perso la loro vita, ripeto, per la nostra libertà. Quindi saranno, immagino almeno io personalmente, non ho fatto altro che ricordare l'importanza di questa data e ricordare che nonostante questo Covid e cosa, il ricordo non va mai fermato. Grazie mille. Sembili News, qui è tutto. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.